Allora provvediamo ad accendere il motore ovviamente tutte le fasi precedenti al montaggio e all'accensione sono state rispettate cosa abbiamo fatto abbiamo messo dell'olio nel motore l'olio fornito ci dalla ditta abbiamo controllato il livello dell'olio della pompa che ci ha fornito la ditta altresì quindi abbiamo sistemato prima dopo aver letto ovviamente il manuale delle istruzioni abbiamo sistemato tutte queste cose adesso andiamo ad accendere il motore abbiamo regolato la pressione della pompa a 20 bar per non arrivare al massimo quindi non sfruttare l'intera potenza della pompa e andiamo a vedere come la lancia riesce a distribuire l'accento dell'acqua umberto tu allarga anche la gittata dell'acqua così ci regoliamo anche la ecco facciamo vedere come lavora qui noi siamo a una distanza di circa 7 8 metri dalla pianta di olivo vedete che riusciamo a realizzare benissimo il trattamento sentite il rumore del motore che sta lavorando al minimo siamo veramente soddisfatti di questa realizzazione del prodotto che abbiamo acquistato ecco abbiamo finito con la pianta dell'ulivo e adesso spegniamo il tutto e riposizioniamo la macchina del suo caraggio eccolo ecco qua ecco qua ovviamente sulla manopola flettiamo il frutto dell'acqua dell'acqua e questo va riportato all'interno del portatoio quindi noi abbiamo Abbiamo messo in giugno di testa un tipo di marimallo. Eccoci qua. Abbiamo finito. Vi ringraziamo veramente per i prodotti che siete venuti. Siamo veramente cantosi e per concessiarsi di cosa abbiamo fatto. Arrivederci da Livi e in D'Acqua.